L'accordo è già firmato dove ci sarà un nuovo ingresso al casello autostradale da via Moglianese. Questo consentirebbe anche di fare un bypass del paesetto di Cappella per cui di consentire che i camion non passino più in centro. Il tracciato della nuova bretella prevede l'accesso diretto dalla provinciale 39 Moglianese al nuovo casello di Martellago Scorsè lungo il passante di Mestre. Un percorso di un chilometro e mezzo che contribuirà a ridurre sensibilmente i disagi lungo quelle strade secondarie che patiscono maggiormente l'aumento di traffico diretto proveniente dal nuovo casello autostradale. La crescita del traffico è il dazio da pagare ad un'opera importante come il passante che ha avuto conseguenze positive sul tessuto economico del comune. Obiettivamente c'è interesse per le aziende di rimanere a Scorsè perché ha un collegamento molto più forte con il passante autostradale. Quindi la nostra zona da questo punto di vista, il punto di vista imprenditoriale ed economico, sicuramente ne sta attraendo un beneficio. Quello della viabilità rimane un nodo fondamentale a Scorsè e i lavori per la realizzazione della nuova bretella non sono l'unico progetto all'orizzonte. L'inizio del lavoro è previsto per ottobre e della variante sudo di Scorsè. Finalmente il TARA si è pronunciato, adesso la procedura è ripartita, l'appalto è già stato vinto, gli espropri sono già stati fatti, stanno completando il progetto esecutivo e ad ottobre, massimo ottobre, ci hanno detto che i lavori cominciano. Lì è fondamentale per il paese perché significerebbe davvero risolvere il grande problema del traffico di Scorsè. Insomma si altrova il dilemma di amministrazioni e commercianti e la chiusura o meno al traffico di determinate vie. A Scorsè non ci sono dubbi, qui il traffico ha raggiunto livelli che non sono più tollerabili. Noi abbiamo una viabilità sovrabbondante a livelli spaventosi per cui la gente non si ferma neanche nei negozi perché si creano delle code immense. Quindi il tema vero per noi è comunque diminuire la viabilità, soprattutto i mezzi pesanti nel centro del paese.